Mangia foo, anzi, mangia merda, cosa fai? Cosa fai con quel piffero? Narraci. Ma niente, mi diventavo un qualche suonata di bacche. Ah sì, e per quale motivazione? Narraci. Che mica il badè. Ho provato anche a infinarmelo un culo, però mi c'entra solo per lungo, di traverso no. Quindi c'è solo un utilizzo, dici? No, due. Suonarci e infilarselo un culo per lungo. Oh, la natura è strana a volte. È capricciosa proprio. Dispettosa direi, quasi.